Davide Nugnes è il nuovo dirigente dell'ufficio scolastico dell'ambito territoriale di Trapani. Romano, classe 1984, laureato in giurisprudenza e già stato dirigente tecnico in forza al servizio ispettivo dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia e revisore dei conti presso le istituzioni scolastiche di Lazio, Abruzzo e Toscana. Ha alle spalle un'esperienza decennale da funzionario amministrativo, giuridico e contabile presso vari uffici della sede centrale del Ministero. Ci sono moltissime riforme in atto, quindi cogliamo proprio in questi giorni la notizia di alcune nuove normative che coinvolgeranno ovviamente la docenza e soprattutto per quanto riguarda il sostegno e tutte le figure istituzionali e le figure di dirigenza scolastica e gestiremo come sempre è stato fatto nell'ambito mobilità, trasferimenti. Abbiamo un corpo docente eccezionale nella città e nella tutta la provincia del Trapanese, quindi il mio impegno è questo, di continuare a fare in modo che la scuola e la vicinanza sia con gli studenti sempre più forte e mi impegno su questo.